Il Vestour fa parte del gruppo Ventaglio ed è l'operatore di alta gamma che chiude quei segmenti di viaggio che ha il gruppo Ventaglio. Il gruppo Ventaglio ha Columbus che è generalista e villaggista, Ventaglio che con il Venta Club ha i suoi villaggi e Vestour che è un generalista di alto livello. La gamma delle tre possibilità che diamo alle agenzie è completa. Le agenzie possono trovare nel gruppo Ventaglio tutto quanto può richiedergli un cliente che entra nella sua agenzia. Il pregio è la volontà e la voglia di continuare a vendere viaggi sia in Italia che all'estero, la capabilità, il difetto a volte la poca formazione che hanno. E qui gli operatori si stanno attrezzando per dare e offrire agli agenti di viaggio la formazione necessaria. In questo campo Vestour è all'avanguardia. Abbiamo creato un sito che è Best Learning che è un modo nuovo di fare formazione interattiva con l'agente di viaggio. L'agente di viaggio si iscrive e ha la possibilità di fare due percorsi, il percorso Basic e il percorso Advanced. Completando questi due percorsi avrà dei vantaggi su viaggi Vestour per lui stesso. Per cui consiglio a tutti gli agenti di viaggio di iscriversi a Best Learning per migliorare la propria formazione. A Best Tour, il gruppo Ventaglio, Alpitour e altri operatori penso che momentaneamente possono dormire ancora suoni tranquilli perché l'italiano è esterofilo per l'acquisto delle macchine, ma è molto concentrato sull'acquisto dei viaggi da operatori italiani.